Dimmi Dovosto Cosmo Mi fa piacere tanto questa sera di trovare Il professore Francesco Giannai, che ci siamo conosciuti recentemente, è una persona che stimo tantissimo, infatti sono venuto a sentire con molto piacere, perché con il professore abbiamo realizzato il dossier per la Grigia Salentina, voi sapete che ci siamo candidati con la Grigia Salentina insieme con la città di Tanto a un bando del Ministero dei Beni Culturali, della Capitale della Cultura, e grazie anche da questo punto di vista all'associazione QNV, tutto quello che fanno. Quindi vi lascio insomma le belle parole e la professionalità del professore Giannai, che vi auguro da buona serata. Grazie. Oggi è una giornata importante per loro, perché è il giorno della liberazione, ricorre la ricorrenza del giorno della liberazione dal regime dei colonnelli. L'Italia e la Grecia hanno subito queste forme di dittatura, ma la loro un po' più recente rispetto alla nostra, con degli strascichi di carattere politico, sentimentale, fortissimi. Ancora adesso c'è tanta gente in Grecia che è stata reclusa, faccio un esempio, Michi Steodorakis, il grande cantante, cantautore greco, cantante dello spirito noellenico novecentesco per eccellenza. Quello stesso Michi Steodorakis, che insieme a Maria Faranduri ha cantato i canti grichi della Grecia Sorrentina, li ha portati anche nella Mitteleuropa. Benissimo, Michi Steodorakis ha subito le disavventure del regime. E' chiaro, è un giorno importante per loro e mi fa piacere ricordarlo insieme a loro. Allora, io colgo l'occasione di questo intervallo per presentare chi farà questi intrattenimenti musicali. I due amici greci che ormai hanno, li daremo la cittadinanza, dove sta il sindaco? La cittadinanza onoraria castriglianese, il maestro Cristos Urlacogianis, e l'Efterio Dakalakis, Michela Sicuro, che farà canti grichi nostri, una voce bellissima, e suo fratello Antonio Sicuro. La musica greca, nella sua totalità, è musica monofonica, cioè non obbedisce alle regole della polifonia occidentale. Stasera cercheremo di trasmettervi un assaggio della musica bizantina, che si tratta di una parte della musica tradizionale greca. In primis, quella puramente ecclesiastica, che viene esibita solo nelle chiese greco-ortodosse. Durante una funzione ecclesiastica greco-ortodossa, l'uso di strumenti musicali non è consentito. La musica bizantina si esibisce da un solo cantante e il suo assistente, che dall'inizio alla fine del brano tiene il tono della melodia. Cioè, immaginatevi come se fosse un accompagnamento alla melodia in una forma d'onda, in linea retta. Questa melodia ausiliaria, mi permetto di chiamarla, in greco si chiama ison, cioè tradotto liberamente in italiano, vuol dire uguale, proprio per la sua forma costante. Quindi il cantante principale viene chiamato Psaltis e il suo assistente Issocratis, dalle parole greche ison e kratò, tenere. Cioè, quello che tiene l'ison. Tutti e due vengono ordinati dal vescovo del paese e della città e fanno parte del clero inferiore. Un altro utilizzo della musica bizantina è la canzone popolare, che si tratta di una continuazione, di una evoluzione della musica bizantina. Ascoltare entrambi i modi della musica bizantina può sorprendervi perché le vostre orecchie sono abituate solo a due tipi di intervalli musicali, cioè il tono e il semitono. La caratteristica della musica tradizionale greca sono gli intervalli tra i toni musicali, che sono più piccoli o più grandi del tono e del semitono. Concludendo questo breve accenno alla musica bizantina, vorremmo sottolineare l'uso del diapason, di questo strumento, che è un strumento che, sentite, c'è un tono fisso. Questo strumento consiste in una forcella di acciaio che, quando viene percossa, produce un suono molto puro, privo di frequenze armoniche, che di solito si tratta della tonalità in La, della quarta ottava del pianoforte, ed è utilizzato per accordare gli strumenti, ma anche il tono, per iniziare un brano ecclesiastico. Facciamo adesso tre esempi della musica bizantina. Partiamo dall'inno che si chiama Te lo diamo. È il brano molto conosciuto nella liturgia greco-ortodossa che si fa durante la preparazione della comunione. Te lo diamo, te benediciamo, e da te, o Signore, rendiamo grazie, e ti preghiamo, o Dio nostro. Grazie. 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 Sì to' δείξ' αντί το' φως, δόξα εν υψίς της Θεώ κι επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού Κύριε ο Θεός, ο Αίρος του Πατρός Κύριε ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου Κύριε ο Θεός, ο Αίρος του Πατρός Κύριε ο Θεός, ο Αίρος του Πατρός Κύριε ο Θεός, ο Αίρος του Πατρός Αίρος του Πατρός, ο Αίρος του Αίρος του Ιωστού Αίρος του Ιωστού, το βαλιστο Ιωστό durante l'ufficio del giovedì santo la sera. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. La musica sacra bizantina è quasi tutta musica d'autore e soprattutto testi d'autore. I testi che vengono cantati nei momenti liturgici quasi sempre sono ricondotti dalla tradizione manoscritta a grandi personalità della letteratura bizantina da Romano il Melode a Cosma di Maio Ma, a Andrea di Creta, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la mia compartecipazione mentre cantavano era veramente molto forte. Facciamo adesso alcuni esempi di musica bizantina ma di uso tradizional popolare, cioè fuori contesto ecclesiastico. Il primo esempio che facciamo si chiama Olatacastra, cioè Tutti i castelli. È una canzone a ritmo musicale libero, cioè una canzone non ballata. Il testo viene ispirato dalla rivoluzione greca contro i turchi e, in particolare, dalla battaglia della nostra città d'origine, cioè la città di Messolonghi. Dice la canzone, tutti i castelli caddero e consegnarono le loro chiavi, ma Messolonghi non si mette in ginocchio, combatte giorno e notte. Ola ta castra pesan e, o re k'edosan ta cilidia tu. Ola ta castra pesan e, o re k'edosan ta cilidia tu. un car natal una z стatico We sul po'edosan ta cilidia a piccolo e, il pis Vanρό ži e ma il pis chaos tò mesolonghi la scena il 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 ICHTA BOLEM URE BOLEM La particolarità delle canzoni del genere come questa che avete sentito sono le larici molto difficili che richiedono una formazione molto approfondita e una tecnica particolare da parte del cantante Facciamo adesso un altro esempio di musica bizantina popolare cioè una canzone d'amore chiamata Prendo le foglie della rosa per fare il tuo vestito La sua melodia è molto particolare proprio per l'uso degli intervalli particolari di toni e semitoni Τις τριάντα φιλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορέσια Θα τα βάλω να περάσω να σου κάψω τη καρδιά E per ultima facciamo la confessione di una bella ragazzina chiamata Theonizza A sua nonna, cioè fa la confessione davanti a sua nonna verso il giovane del quale si è innamorata La ragazzina confessa l'amore chiedendo alla nonna di suggerirle alcune cose e chiede l'aiuto L'abbino ilios l'ambi 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 Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo. Kalinita. Oh Kalinita. Cantate con noi. Anche i bambini. Anche i bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ego panta σε sene a penzero, perché sene a vizio mi amacchiai. Ego panta su sene a penzero, perché sene a vizio mi amacchiai. la di... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti